Mi fa male, e lo dico con estrema sincerità e con estrema determinazione, constatare che a ieri gli abbonamenti, le tessere di sostegno sottoscritte, sono solo 480. Così non andiamo da nessuna parte. Aldo Roselli, presidente della Fidelisandria, parla chiaro. Le circa 500 Fidelity Card sottoscritte dalla piazza a 4 giorni dallo start del campionato di Serie C sono troppo poche per una squadra tornata tra i professionisti a tre anni dall'ultima volta. O ci si mette tutti insieme, si capisce di aver raggiunto un traguardo fino all'altro giorno praticamente imprevedibile, ora ce l'abbiamo, lo tocchiamo, lo dobbiamo mantenere, però non lo può mantenere solo la società. L'occasione per fare chiarezza è stata nella conferenza stampa convocata per illustrare i programmi societari, oltre agli aggiornamenti sulla campagna di sostegno dedicata ai tifosi e quella riservata agli sponsor, il tutto con il blitz di Coppa Italia a Bari alle spalle. Per me quello che non è tanto la vittoria, quanto l'atteggiamento che abbiamo avuto verso una squadra che l'anno scorso ha finito il campionato con la contestazione e che mai avrebbe voluto perdere in casa la prima di Coppa Italia. Allora, guardando questo presupposto, io dico che chiaramente ci deve stare vicino a tutta la città, con l'amministrazione ci siamo trovati bene, dobbiamo ringraziare infinitamente il sindaco e gli altri che ci hanno aiutato. Io sono già ottimista, se la città ci aiuta, certo che noi non ci precludiamo nessun traguardo. Domenica intanto la Fidelisandria darà il via al suo campionato ospitando al Dei Julivi la Juve Stabia. Proprio lo stadio è stato al centro di una lunga querelle, riassunta così dal sindaco Giovanna Bruno. Ci sono delle prescrizioni che c'erano già prima, anche prima c'era l'agibilità e c'erano delle prescrizioni, alcune delle quali ottemperate, altre no. Noi come amministrazione ci siamo fatti carico di ottemperare a tutte queste prescrizioni il sistema di videosorveglianza. Un problema annoso ce ne siamo fatti carico, considerate che anche dal punto di vista tecnico si partiva da una idea progettuale di 20 telecamere, siamo arrivati a 44 telecamere, con tutto che lo stadio sarà accessibile soltanto per la percentuale consentita in tempi Covid. Nel mezzo c'è il calciomercato, passaggio necessario per completare una squadra con delle lacune, soprattutto numeriche, per definire l'altezza dell'asticella delle ambizioni, però occorre la mano di tutta la piazza. Roselli gioca a carte e scoperte. Vanno bene i complimenti, va bene tutto, però alle parole dovete far seguire i fatti, altrimenti non funziona.